Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono RobTV e oggi siamo nell'episodio finale di MindGames3 Siamo qui, MindGames3, il creatore della mappa ha detto che questa è l'ultima, mi dispiace perché faceva dei bei livelli E quindi direi di iniziare subito, credo che le regole sono sempre le stesse Ok, 8 stage, le regole, vediamo, rimaniamo in Game Mode 2, non usare cheats, 1.10.2, single player Ok, figo, ho migliorato, good luck, buona fortuna, divertiti, grazie Ok, MindGames3, oh mio dio che figo, è fighissimo, puzzle parkour, headace, mal di testa Allora, vediamo, siamo in Game Mode 2 Mmm, cosa ci dà di interessante il nostro creatore, mal di testa Ah, lo sapevo, qualcosa ci doveva essere, ti è, è il primo andato, andiamo, andiamo col primo Mamma mia, allora Ok, controlliamo sempre Ok, facciamo un pochino di parkour Credo che tra poco ritornerò con le mappe parkour Perché, sì, ti fanno sclerare e va bene, è figo Ok, primo pezzettino Che figo Cosa? Cos'è che ha fatto? No, ma che? L'autogump, è vero Questo blocco che mi potrebbe dare fastidio Ma, what? Questo? Aspetta, tolgo l'autogump perché proprio non mi piace l'autogump Fatto Fatto Ma non capisco Cos'è che ha fatto? Mi ha teletrasportato da un'altra parte Mi ha teletrasportato lì What? Aia Sbagliato Andiamo, andiamo Andiamo No Parti da qui indietro Vai Vai Adesso dove mi porta? Ecco Ecco, mi ha portato qui Forse Perché credo che c'è stato un doppio teletrasporto Quindi mi devo Devo andare piano E andare piano Ecco Molto fregato Molto fregato Mi porta qui Lag Allora Checkpoint Only for Wimps Significa Wimps Se io clicco Ti piazza l'acqua Grande Allora Allora ragazzi Una notizia sul Server 1.9 Che faccio con Gunway E Mr. Amona Per dirvi che per ora Ero in sospeso Perché c'è stato un problema Non so se si è risolto Questo problema Dovrei chiedere a lui E se è proprio il caso Perché non so che ha fatto un casino Che è entrato con un'altra versione Non so perché è entrato È entrato con un'altra versione Quindi forse è successo un casino col mondo E quindi La dovrò forse riniziare Oppure tenteremo di fare le stesse costruzioni Che abbiamo fatto Easy Ok Qui tentiamo di aggirare Mamma mia Manco il migliore del parkour Cos'è che c'è adesso Andiamo di qua Ok Andiamo piano Così se vediamo qualche cambio Ce ne rendiamo conto Ok Tac Ok Ci ha riportato qui Aspetta Ecco Noi andiamo di qua Ah ci Checkpoint No Aspetta Tutto no No Non capisco Lì c'è qualcosa Mi fai arrivare in quel punto Grazie No eh Ah devo stare qui Tutto il tempo Oltre al parkour Che mi fa sclerare E c'è pure un Pazzo Ok Ora In teoria potremmo Andare da quella parte Grazie eh Grazie Allora Noi siamo Venuti Abbiamo saltato qui C'era questo Se noi saltavamo Cadevamo giù Quindi Allora io provo Andare di qua Ok Adesso Cosa c'è Ok Siamo sopra Tutta la mappa Ok E mo Che famo Eh Come dici Che famo Facevo lo shift Allora Oddio no 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 Un blocco Il salto di un blocco Ok No Siamo Qui Ok Adesso Dobbiamo fare Questo salto Ok Ok Do you use the checkpoint Si L'ho usato Non mi fido di te Mmm Ah Andiamo Si Si Rivelo 2 completato Ok Questo ci è voluto un pochino di più Open the door Apri la porta Ok Non c'è niente Allora Stanza numero 1 Segnale Off On Get redstone Prendi redstone Ok Ah Allora Credo che devo collegare il circuito Ne prendo più che posso Ok Che ne sto Così Facciamo Ok Aperta La stanza 2 Ok 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 Ma Allora Ok Questa Ti hanno aperta Quella Però se io chiudo Questa si apre Questa Ok Apre Quella Aspetta Aspetta Prima quella E poi Ok Ok Vai Muoviti Muoviti Oh bravissimo Ok E mo Questa Come me la apri Va Ma ah c'era quello, ok, quello non credo servisse, exit door open, ok, 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 exit, ok, perfetto, mamma mia, questo è stato più di logica che di abilità, maids, labirinto, vogliamo rigiocare, io li so fare, segui sempre il bordo sinistro, perché il lato sinistro? oh, non lo so, è istinto, ok, visto, visto, livello 4 completato, non bisogna mai andare a caso, mai, se no vi perdete, change the block, cambia il block, allora, nell'inventario non abbiamo niente, sempre controllare che c'è sia qualcuno in alimentario, piccone di diamante può distruggere l'arenaria, vediamo dov'è l'arenaria, vediamo se, come le altre volte, quando aprivi e chiudevi la cassa, c'era un cambio di blocco, no? nel tetto non c'è l'arenaria, e si distingue quando c'è l'arenaria, perché è giallonio, mentre per terra, neanche, 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 si vuole mettere a prova, bavule, proviamoci un po' intorno, quando apriamo, perché questa è una cassa trappola, come faccio a sapere che è una cassa trappola? c'è un piccolo bordino rosso, poi quando l'apro e la chiudo, lì c'era un piccolo bordino rosso, quindi quella è una cassa trappola, e quindi dovrebbe attivare qualcosa di redstone, ma cosa, ma cosa, eh, eh, quello è il problema, eccola, 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 era qui, era qui, eh, t'ho visto, eh, t'ho visto, t'ho visto, no, ma è impossibile, devi fare lo scatto, la usa in volto, ok, prepariamoci, tac, si, no, mi prendi in giro, quella che è impossibile, ma è impossibile, ma è impossibile arrivarci in tempo, diamogli un po' di tempo, ok, ok, teniamolo aperto, ma, mi prendi in giro, oh, eh, ma mi prendi in giro, oh, ascia, assi di legno, e mo, mi prendi in giro, dove sono gli assi di legno, eccolo, ok, 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 quindi è questione di velocità, mamma mia, mamma mia, che velocità, mamma mia, livello 5 è completato, uh, è stato difficile quello, change the block, bow, master, master dell'arco, potrei essere considerato, ma dipende dalla giornata, allora, per chi non lo sapesse, se tiri una freccia in una pressure plate, quella la attiva, ok, qui c'è bisogno, no, ma mi, mi vai via in giro, oh, 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 allora, un'altra, ok, uno, due, tre, oh, figo, mi è piaciuto questo, carino come ultima mappa, mi piace, trade, li odio, vi odio tutti, vi odio, ah, a te ti posso colpire, ma a te no, ah, ah, qualcuno è prescelto, se c'è una scala significa qualcosa, ma diamo uno sguardo qui, vabbè, un ender chest, può distruggere oro grezzo, ok, se ti ho tolto per qualcosa, no, ok, qui c'è la vittoria, laggiù c'è un altro coso d'oro, anche qui c'era, non mi ero accorto, boom, e boom, e boom, questo, ok, è un semplice coso d'oro, ah, ah, la fornace, abbiamo bisogno di qualcos'altro, che mi dai qualcosa qui, il calderone non c'è niente, l'ender chest non c'è niente, devo fare una pedana a pressione, in teoria, se vado lì non posso più uscire, quindi il piccone non brucia, cioè se io metto il piccone non posso perché è di diamante, quindi devo trovare qualcosa, voi mi date qualcosa, eh? Tu, no, tu, no, devo, se ci sono questi è per qualcosa di sicuro, eccolo, eccolo, acqua, ok, acqua, Allora, poi, cosa posso fare con l'acqua? Soltanto un cavolo di secchio d'acqua? Aspetta, Ah, ah, lo sapevo, a cosa serviva il calderone? Sì, no, che devo fare una pedana a pressione con dell'oro, ma non è vero, la gente mente, Allora, lo set è completato, un quanto manca, ultimo livello, Find the button, come sempre, trova il pulsante, Ah, ah, barrier block, Blocky barrier, Hmm, Vediamo, cosa ci dà di interessante? Hmm, allora, eccolo, Too easy, man, Too easy, Boom, livello 8 completato, e si va a finire la mappa, signori, Thanks for playing mind games, If you want, you can destroy the map using TNT, Wow, certo che voglio, come si va? Eh, vabbè, non posso andare in creativa, Uh, che figo, no, che figo, c'è messo i numerini, figo, Ok, va bene ragazzi, non vi rompo troppo, va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, consigliatemi altre mappe da mettere, da fare, così così, ma se non mi consigliate non importa, però mi farebbe piacere, quindi lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale, anche alla pagina di Facebook, che trovate in descrizione, noi ci vediamo, in un prossimo video, bella ragazzi, ciao, boom, che figo guardi, guarda questo, se c'hai il coraggio, va bene ragazzi, eh, credo che, sono troppo un malvagio, giù, a te non ti voglio fare del male, oh, ci vengono di sotto, vai, facci di sotto, bella ragazzi,